E' per me? Grazie! Che bello! Era proprio quello che volevo, lo desideravo tantissimo! Sono curiosissima di vedere cos'è. Uno shampoo? Cioè scusa mi stai dicendo praticamente che non mi lavo i capelli? Sì! Grazie, vediamo subito. Ah, dei calzini. Carini, molto carini. Brutta stranza, io ho speso 60 euro per il tuo regalo. Grazie, grazie, non vedo l'ora di aprire. Ah, la pasta! Questa la uso per fare la pasta al forno, grazie, 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 bellissimo! Non vedo l'ora di aprire. Sai che faccio? La faccio direttamente oggi. Grazie. Ah, un profumatore. Guarda, se vuoi puoi cambiarlo. Sì, sai, probabilmente lo cambio perché meglio odori troppo forti, mi infastidiscono. Mi hai regalato il Mac. Grazie. Grazie, amiche. Ma come facevate a sapere che volevo proprio questo? Ce l'hai detto tu? Ah, già. Grazie. Non vi preoccupate per il regalo, non c'è bisogno, l'importante è che siamo insieme. Come ci hai detto tu Ale, non abbiamo fatto nulla. Ah, niente di niente. Proprio niente. Ah.